Salve a tutti ragazzi sono P5 come vedessi nel primo video oggi siamo su Clash Royale con un nuovo video dei replay epici e perchè sto parlando non perchè sono fuori di testa ma vi volevo dire semplicemente che io gioco a Clash Royale da 2-3 anni quest'anno nel 2019 e nel marzo del 2019 sono 3 anni che gioco a questo gioco e in 3 anni questa è la prima volta che mi capita una cosa del genere la prima volta che mi capita di vincere una carta in anteprima e soprattutto di un fatto, di una specie di culo, puro culo che ho avuto nell'ultima partita e non vi starò a spiegare perchè sono stato così tanto assente, ne farò un video a parte non vi preoccupate perchè non sono morto, anzi eccomi qua, sono vivo e vegeto come al solito scusate l'audio del mio telefono ma questo è e questo purtroppo deve rimanere e nulla ragazzi, buona visione grazie a tutti Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Okay, raga, mi volevo prendere Questi 10 secondi per dirvi veramente Che non mi è mai successo Che vorrei mi capitasse più volte Per avere maggiore soddisfazione Nelle battaglie che faccio E mi è capitata questa cosa Che non penso sia capitata mai E dico mai a nessuno Perché ho capito che c'è tanta Ma tanta Ma tanta ansia Quando si procede a fare L'ultima partita per la leggendaria Tra l'altro Per grandissimo culo Io ho fatto una sconfitta solamente E come potete vedere Io le gemme comunque le ho Quindi non le ho spese Perché in questa sfida qua C'era una cosa ignorantissima Che anche se è una sfida classica Però potevate fare tipo Con 100 gemme Cioè Non me ne frega niente Di fare sta roba Anzi guarda Piuttosto mi scioppo questo 507 di oro 6 cosi 20 cosi E 6 cosi E va bene così Comunque raga Questo video diverso Di replay epici Spero vi sia piaciuto E Questo è il primo video Di replay epici Dove faccio la outro A voce Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Iscrivetevi al canale E attivate La campanella Ciao ragazzi